ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in un nuovo video di 8 bars for you oggi il mio amico giulio galati ci propone un bellissimo esercizio di coordinazione mani piedi fatto proprio qui al 5 quarti music studio se vuoi sapere di più riguardo giulio galati la sua didattica la sua formazione i suoi progetti musicali ieri è uscita una bellissima intervista proprio su questo canale quindi non te la perdere link in descrizione signore e signori giulio galati ciao a tutti sono giulio galati e mi trovo qui oggi al 5 quarti music studio in compagnia di tommaso e di lorenzo che vorrei ringraziare ringraziare anche tutti i ragazzi di 8 bars for you per avermi invitato qui a partecipare a questa iniziativa quest'oggi vi spiegherò un piccolo esercizio che consiste nell'alternare dei sedicesimi tra colpi di rullante e colpi di gas sopra questa sequenza andrò a suonare una serie di accenti sul piatto che partiranno seguendo prima un'alternanza di 2 sedicesimi poi di 3 sedicesimi poi di 4 e poi di 5 ma dividendo la struttura del 5 nel 2 più 3 inizierò con una versione un po più lenta dell'esercizio per poi suonarlo a una velocità più alta 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 adesso andrò ad eseguire l'esercizio applicandolo su tutto il set quindi coinvolgendo l'utilizzo di altri piatti e la batteria e soprattutto degli altri tamburi utilizzerò le alternanze dei sedicesimi fracas e rullante con un pedale singolo e successivamente anche con l'utilizzo di entrambi i pedali per poter aumentare la velocità e creare dei fraseggi a mio parere un po più interessanti che comprendono anche la modulazione delle dinamiche suonerò degli esempi in ottavi terzi nati e in sedicesimi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie ancora e arrivederci